Ecco Michele, Michele il suo tiraccio, bravo, respinto dal portiere, ancora una respinta dal portiere proprio, doppio intervento del portiere del Miglianico Calcio, adesso mister Gabriele si accinge a fare il cambio, si prepara Nicolò, Dancelo col numero 15, qua avvicinati sulla linea qua, linea di centrocampo, di metà campo Rete, 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 ha segnato Michele, il Messi della squadra, il numero 10, Michele Daniello ha realizzato la quinta rete per la Virtus Castelfrentano Michele dove stai? Qua dovevi venire? Matà va al posto di Michele, arbitro il 10 e il 7 Ecco si prepara Nicolò con il numero 15 e Filippo con il numero 17 esce il numero 7 Lele e il numero 10 Michele che ha appena realizzato la quinta rete Bravo, bravo Michele Matà, tutti e due, bravi Ecco bravi, bravi Questo è il video, aspetta, mo ti faccio la foto Grazie Grazie Grazie